il problema politico cioè il problema di come edificare uno stato giusto uno stato equo che assicuri non solo il rispetto dei diritti dei suoi cittadini ma anche lo svolgimento puntuale dei loro doveri e dunque con ciò la prosperità e il benessere di tutta intera la comunità è un problema che è stato trattato fin dalle origini della filosofia è il problema che al centro della riflessione di platone per esempio e io ho deciso in questo video di dare qualche accenno all'ultimo dialogo platonico che è incentrato proprio su questo problema e cioè al dialogo intitolato le leggi la cornice del dialogo è una potremmo dire una mena passeggiata che tre personaggi intraprendono dalla città di cnosso fino al monte ida dove si trovava un santuario sacro a zeus questi personaggi sono un ateniese clinia di creta e megillo risparta il personaggio più importante colui che sostanzialmente tiene le fila del discorso è l'ateniese e la domanda che dà avvio alla conversazione è una domanda intorno a quale potrebbe essere la migliore costituzione da dare ad una città cioè ad uno stato che tipo di leggi il legislatore saggio deve redigere per una città allo scopo di promuovere la prosperità della città stessa e dei suoi cittadini naturalmente la prosperità intesa come il bene dell'intera dell'intera comunità c'è un motivo prevalente che mi ha spinto a fare questo video sulle leggi di platone ed il motivo è un certo fastidio che provo nel leggere soprattutto sui social network le varie ricette che ognuno si sente autorizzato a proporre per risolvere il problema politico sostanzialmente per cambiare la situazione nel senso di una giustizia sociale nel senso di una politica che faccia veramente l'interesse dei cittadini e non dei pochi gruppi di potere ecco in questo battibecco continuo e infinito tra le varie tifoserie che parteggiano per i vari partiti o i vari leader di partito io vedo sostanzialmente una incapacità, una impotenza, una cattiva fede e soprattutto l'ignoranza di quello che invece costituisce la sostanza del problema politico ovvero ciò che sarebbe importante comprendere per poter inquadrare correttamente la questione della politica ed evitare dunque di lasciarsi andare alla piena delle proprie passioni dei propri risentimenti, delle proprie simpatie o delle proprie antipatie e credo che Platone da quel grande pensatore che era abbia posto correttamente la questione nel momento in cui ha fatto dipendere l'edificazione dello Stato retto da giustizia l'ha fatta dipendere da una corretta educazione degli individui fin da piccoli quindi Platone era perfettamente consapevole a mio modo di vedere dello stretto legame che esiste tra una educazione adeguata e una città, una polis, uno Stato ben governato ben governato cioè che faccia l'interesse di tutta la comunità e non soltanto di alcuni suoi membri e di conseguenza la soluzione del problema politico se appunto intendiamo per problema politico appunto il problema di edificare uno Stato che faccia l'interesse di tutta la comunità passa attraverso la virtù dei suoi cittadini e la virtù appunto è il frutto di una corretta educazione degli stessi fin dall'infanzia si tratta allora per Platone di capire intanto che cosa sia la virtù ecco parlando con i suoi interlocutori l'Ateniese ci tiene subito a sottolineare che la virtù non coincide con una virtù e in particolare con il coraggio come sostenevano inizialmente Megillo e Clinia dicendo che le leggi delle loro rispettive città erano state date in funzione della guerra vittoriosa e quindi dovevano tendere soprattutto ad infondere nei cittadini la virtù del coraggio l'Ateniese dice che il coraggio è una parte della virtù non è la virtù tutta intera e quindi il saggio legislatore non può limitarsi a redigere le leggi tenendo presente soltanto queste virtù ma che cos'è la virtù tutta intera come la intende Platone la virtù tutta intera in un passo del primo libro e gli parla di pistotes ecco questa parola il traduttore la traduce con la parola italiana lealtà sempre nella stessa pagina e gli identifica con la giustizia perfetta possiamo dire che la virtù completa per Platone è un insieme armonioso di quattro virtù principali che sono la saggezza la temperanza la giustizia tuicaiosine ed infine il coraggio l'andreia quindi il combinarsi armonioso di queste quattro virtù nell'animo umano nell'animo del cittadino e soprattutto la pratica di queste virtù e fanno sì che i cittadini siano virtuosi e essendo i cittadini virtuosi essi opereranno non per il proprio tornaconto ma opereranno per il bene della collettività per la potenza dello Stato e per la pace dunque il bene supremo dice Platone che il legislatore deve costantemente avere davanti agli occhi nel momento in cui redige le leggi non è tanto la potenza militare della propria città non è tanto la guerra dunque sia essa una guerra difensiva o una guerra offensiva ma il bene supremo è la pace la pace aggiunge Platone accompagnata da reciproca benevolenza dei cittadini quindi questa eirene accompagnata da reciproca benevolenza che costituisce un po' la stella polare a cui il legislatore deve tenere costantemente fisso lo sguardo per poter redigere delle buone leggi e assicurare e assicurare diciamo così assicurare una prima base alla fondazione della città ideale della città perfetta ma naturalmente Platone non è così ingenuo da ritenere che sia possibile l'edificazione di una tale città anche se gli uomini devono in qualche modo tendere ad essa ora nel realizzare il bene supremo della città quello che abbiamo detto poco fa e cioè la pace accompagnata da reciproca benevolenza occorre evidentemente che i fanciulli vengano educati fin da piccoli alla pratica della della virtù e quindi come dicevamo poco fa è centrale il problema dell'educazione il problema dell'educazione viene trattato nel secondo libro ritorna costantemente nel dialogo di Platone e anche in altri dialoghi nella Repubblica perché evidentemente senza una corretta educazione le leggi per quanto buone non sarebbero da sole sufficienti ad assicurare il bene comune il ton koinom quindi il bene dell'intera comunità l'educazione allora deve fare una specie di miracolo cioè deve come dire formare il cittadino ad essere superiore a se stesso cosa significa per Platone l'uomo può essere o inferiore a se stesso o superiore a se stesso noi siamo inferiori a noi stessi quando ci lasciamo trascinare dagli impulsi che tirano dalla parte del vizio e siamo superiori a noi stessi quando riusciamo a resistere a questi impulsi e a obbedire alla guida della ragione in vista del bene supremo è molto bello il mito che Platone racconta dell'essere umano che viene paragonata ad una marionetta costruita dagli dei che viene tirata attraverso vari fili alcuni di questi fili la tirano verso il vizio altri fili la tirano verso la virtù e l'uomo dovrebbe obbedire alla ragione che lo persuade diciamo così a cedere all'attrazione che tira dalla parte della virtù e da resistere all'attrazione opposta che tira dalla parte del vizio e questo lo si può fare se semmai lo si potrà fare soltanto attraverso una corretta educazione ma che cosa deve realizzare questa paideia questa corretta educazione che cos'è la corretta educazione non è intanto l'addestramento Platone mette subito in chiaro che un conto è insegnare ai fanciulli un determinato mestiere una determinata arte addestrarli a fare bene qualche cosa e un altro conto è instillare per tempo nelle loro anime la virtù completa ecco quella virtù completa che è appunto l'armoniosa combinazione di saggezza di giustizia di temperanza e di coraggio questa propriamente va chiamata educazione cioè paideia con il termine greco mentre quell'altra Platone non la considera una vera e propria educazione ma bensì una forma di addestramento che è certamente utilissima ma non è appunto la paideia non è l'educazione intesa appunto come formazione alla virtù e come soprattutto instillare nell'animo dei fanciulli fin dalla più tenera età il desiderio di compiere azioni virtuose e il disgusto nei confronti di azioni non virtuose quindi questo è un punto importante l'educazione avviene attraverso il piacere il dolore e quindi il compito dell'educatore è di fare in modo che per tempo nel fanciullo si crei proprio sorga il desiderio di agire virtuosamente e la repulsione ad agire in maniera viziosa a intraprendere diciamo così a soddisfare dei bisogni che sono in contrasto con il fine supremo della comunità della città e quindi ad evitare a provare disgusto per tutte quelle azioni insensate poco sagge intemperanti vili che costituiscono il vizio diciamo così che porta alla corruzione della città e quindi porta al disfacimento dei vincoli sociali dicevamo poco fa che come un individuo può essere superiore a se stesso nel momento in cui coltiva la virtù guidato dalla ragione allo stesso modo anche una città cioè uno stato può essere superiore a se stesso nel momento in cui diciamo così realizza fattivamente la giustizia mentre è inferiore a se stesso nel momento in cui la maggioranza se vogliamo si comporta ingiustamente e quindi opprime coloro che invece essendo giusti essendo virtuosi potrebbero fare il bene dell'intera città ma naturalmente il legislatore deve prevedere anche dei mezzi coercitivi non solo deve prevedere delle norme delle leggi che mirino alla corretta educazione che per Platone implica discipline come la musica la danza discipline che in un certo senso insegnino praticamente quella armonia quel ritmo in cui consiste la virtù completa la virtù completa ricordiamoci che è un armonizzarsi dell'anima con la ragione una concordanza della ragione con i desideri della nostra anima e questa concordanza questo equilibrio questa armonia la si ritrova in immagine nelle armonie musicali nei gesti regolati della danza e così via quindi queste discipline sono sempre in funzione della paideia dell'educazione alla virtù del buon cittadino ma dicevamo questo non è sufficiente il legislatore proprio per la debolezza della natura umana proprio perché non è pensabile che l'educazione per quanto efficace possa come dire far sì che non vi sia più bisogno della legge cioè che i cittadini come dire obbediscano spontaneamente alla ragione c'è bisogno anche che il saggio legislatore preveda delle punizioni e dei premi quindi la legge deve essere severa con coloro che si comportano ingiustamente ed inflessibile nei confronti di coloro che si comportano ingiustamente e deve prevedere dei premi nei confronti dei cittadini che invece si rendono come dire illustrino la propria vita con azioni virtuose tese al bene dell'intera comunità è quello che con una parola forse abusata noi oggi chiameremmo meritocrazia questo comporta che al vertice dello Stato al vertice della polis che i supremi magistrati siano persone assolutamente virtuose che hanno il compito non soltanto di promuovere l'educazione dei cittadini ma anche di garantire la rigorosa applicazione della legge nei casi in cui questa venga infranta e di garantire l'adeguato diciamo così di garantire gli onori a quelle persone che meritano gli onori della città alla fine del dialogo Platone prevede anche l'esistenza di un consiglio notturno un consiglio notturno che ha il compito di vigilare su tutta la vita dei cittadini di controllare rigorosamente che le norme stabilite vengano applicate ed eventualmente di cambiare queste norme nel momento in cui anche attraverso dei viaggi e di tanto in tanto i magistrati più prestigiosi i magistrati più importanti fanno nelle altre città di cambiare le norme quando essi notino che in altri stati in altre città vi siano norme migliori leggi più efficaci dal punto di vista di quel bene supremo che abbiamo detto e cioè di promuovere la pace e la reciproca benevolenza tra i cittadini ecco dunque naturalmente questa è una vaga idea della ricchezza e della bellezza del dialogo di Platone ma credo che sia sufficiente almeno voglio sperarlo a sottolineare tutta la distanza abissale che vi è tra questi semplici concetti e la pretesa di molti di sapere cosa sia giusto fare e che cosa non sia giusto fare in ambito politico